e allora entriamo nel vivo della nostra prima sessione che si chiama sesso ed evoluzione con il panel origine ed evoluzione dei sessi e allora prego di raggiungermi sul palco chiara tonelli professore ordinario di genetica dipartimento di bioscienze dell'università degli studi di milano e presidente del comitato scientifico della fondazione umberto veronesi prego professoressa carlo alberto redi professore ordinario di zoologia università degli studi di padova e presidente del comitato etico della fondazione umberto veronesi buongiorno professore e telmo pievani professore ordinario di filosofia delle scienze biologiche dell'università degli studi di padova buongiorno e questo è un panel dove vi chiederò di intervenire con le vostre domande quindi il numero whatsapp ve lo ricordo se non l'avete segnato prima segnatelo è il 02 76 01 81 87 segnatevelo bene perché così potrò girare le vostre domande direttamente ai nostri relatori che vedo hanno preso un po di distanza da me come volete come volete no se volete prendere distanza da me io non mi offenderò non vi preoccupate ah no io ho uno sgabello un po più scomodo ma è per tenermi sempre attiva e allora quest'anno noi vogliamo coinvolgere i nostri studenti con un bel sondaggio iniziale così capiamo quanto ne sapete della materia che andremo a discutere allora anche qui vi chiedo di stare attenti perché dovete segnarvi due cose allora per rispondere al sondaggio collegatevi al sito www.menti.com basta che tirate fuori i vostri cellulari e andate su www.menti.com fatelo subito è perché vi faccio subito la domanda e inserite questo codice 62 25 68 95 lo trovate anche in sovraimpressione 62 25 68 95 e questa è la prima domanda della giornata sai cos'è la fitness in genetica questa è una domanda forse difficile allora abbiamo tre opzioni influenza dell'esercizio fisico sul dna il successo riproduttivo l'idoneità di un organismo all'ambiente cioè il suo valore adattativo la predisposizione genetica di un individuo all'attività sportiva rispondete rispondete vediamo cosa rispondete allora vedo che in grande maggioranza sta vincendo l'opzione 2 cioè il successo riproduttivo l'idoneità di un organismo all'ambiente cioè il suo valore adattativo professoressa tonnelli questi studenti sono preparatissimi questa è la risposta esatta bravi studenti il primo sondaggio avete risposto in maniera corretta io personalmente non lo sapevo cos'era la fitness in genetica e quindi professoressa le chiedo se ci può innanzitutto spiegare meglio di cosa si tratta anche se i nostri studenti sono preparatissimi e poi se può rispondere alla domanda che ha ispirato questa edizione cioè perché c'è il sesso in natura e questa è la domanda che ci siamo posti no poi in questo in questo panel cercheremo di darvi una risposta perché da un punto di vista evolutivo ci sono vari modi in cui un individuo può riprodursi perché lo scopo di ogni organismo è la riproduzione quello di poter dare cellule figlie organismi figli e per far questo ci sono vari modi voi lo sapete c'è l'autoriproduzione c'è l'ermafroditismo e c'è la riproduzione sessuata ora quello che si è affermato e lo vediamo in tantissimi organismi è la riproduzione sessuata perché se ci pensate bene la riproduzione sessuata ha una serie di costi notevoli un organismo che si riproduce per autoriproduzione se voi fate 100 organismi in un determinato ambiente per autoriproduzione tutti e 100 si riprodurranno se invece avete la riproduzione sessuata se avete 100 organismi 150 saranno maschi 50 saranno femmine e solo le femmine si riprodurranno quindi c'è questo costo di cui poi parlerà a telmo che è estremamente importante quindi è un costo biologico che pesa eppure la riproduzione sessuata si è affermata ora ci sono anche altri costi più strettamente genetici che riguardano il fatto che attraverso l'incrocio noi possiamo rompere una serie di geni che si sono che risultano vincenti perché quando voi fate un incrocio attraverso la meiosi avete la ricombinazione avete la segregazione dei vari cromosomi ai poli e così via e quindi delle combinazioni vincenti di geni nei confronti dell'ambiente possono rompersi e questo è un costo notevole però tuttavia la riproduzione sessuata ha vinto e ha vinto perché perché rimescola i geni che ci sono tra due individui quindi abbiamo due individui che incrociandosi mettono insieme i propri geni e con questo abbiamo nuove combinazioni abbiamo un primo risultato che quello che in genetica noi diciamo la complementazione che vuol dire che se un individuo porta dei geni che sono deleteri incrociandosi con l'altro individuo questo può portare i geni cosiddetti gli alleli cosiddetti sani e quindi possono in questo modo dar vita a un organismo che non porta più alleli solo deleteri inoltre quello che succede è che abbiamo la possibilità di mischiare nuove combinazioni quindi nuovi alleli nuovi geni che portano a una miglior capacità di adattarsi all'ambiente soprattutto una nuova capacità di adattarsi e di essere resistenti a patogeni e questo è il vero successo della riproduzione sessuale cioè il fatto che ci sia un rimescolamento di geni di mutazioni e così via che possono dare un successo in futuro alla specie e c'è un esperimento molto carino che è stato fatto utilizzando un sistema modello che è sia elegans che è un piccolo verme che viene utilizzato soprattutto per studi del comportamento eccetera e quello che hanno fatto è di prendere due popolazioni una che si di si è elegans che si autoriproduceva e una invece che si incrociava quindi c'erano maschi e femmine in queste due popolazioni hanno messo un patogeno per questi vermetti e sono andati avanti per tante generazioni e cosa hanno visto? Che quello che si autoriproduceva a un certo punto si estingueva mentre quella che si incrociava quindi a riproduzione sessuata evolveva e risultava più resistente ai patogeni e quindi non si estingueva quindi l'estinguersi di una popolazione è un segnale di debolezza della specie mentre continuare a evolversi vuol dire aumentare la capacità di essere resistenti e quindi di adattarsi all'ambiente e qui gioca la fitness la fitness come avete detto è la capacità di un organismo di adattarsi all'ambiente e questo è il primo pezzo e di produrre una progenie fertile e questa è la seconda parte della definizione cioè gli individui che hanno più fitness sono quelli che riescono a produrre più figli che a loro volta sono fertili e questo dà il segnale di come un determinato organismo possa continuare a riprodursi e ad affermare la propria esistenza e il proprio modo di evolversi Ecco ma professor Redi quanti modi di riproduzione sessuata esistono in natura? Ce lo spiega? Molto volentieri perché approfitterei di questa precisazione della professoressa Tonelli per entrare nei dettagli perché qui le trappole del linguaggio sono in agguato quindi dobbiamo essere attentissimi a cosa intendiamo con le parole Sesso è, come ci ha spiegato, ricombinazione genetica quindi già questo è un aspetto importantissimo da avere in mente Quali sono le modalità con le quali si attua? Resta una domanda enorme dietro, prima di capire le modalità se la riproduzione sessuata si è evoluta prima o dopo di quella sessuata Forse poi Telmo ci dirà qualche cosa Nei libri di testo ragazzi spesso c'è scritto che prima c'è la riproduzione sessuata e poi l'assessuata Fate presente all'editore del vostro testo o ai vostri insegnanti che non è così Le idee attuali tendono a preferire l'idea che ci sia dapprima la riproduzione sessuata perché tutto il meccanismo di taglia e cuci del DNA di cui parlava la professoressa Tonelli è quello che in origine assicura al nostro ultimo antenato di cavarsela rispetto a tutte le mutazioni che venivano, cioè riparava il DNA Quindi i nostri studenti torneranno da Science for Peace and Health e faranno un bel segno con la matita blu Errore Ok, chiarito questo aspetto Su come si sia originata, non so se Telmo perché qui improvvisiamo vuol dire qualcosa, visto che siamo in Bocconi sulla teoria della banca incasinata o ingarbugliata Non ce ne vorrà il redettore Fortunatamente è andato via perché se no magari si arrabbiava No, però è una delle teorie Oppure quello della Regina Rossa Poi ora qui ci date sempre troppo poco tempo però Vabbè, le modalità Chiariti questi aspetti Beh, dipende in che termini vogliamo intendere sesso La visione antropocentrica tende a dire Beh, c'è un maschietto, una femminuccia con determinati caratteri Dal timbro della voce alle gonadi, ovaie, testicoli a mille altri aspetti Differenzio un maschio e una femmina Ecco, questa è una visione estremamente limitata Da zoologo è mio dovere farvelo presente Voi sapete che in zoologia si parte dalla specie Poi ci sono i generi, poi ci sono le famiglie, gli ordini, le classi, i filum Ok? Pensate, i vertebrati Eh, filum vertebrati, però poi hai la classe dei mammiferi, eccetera, eccetera, eccetera Ebbene, esistono filum, ne cito uno I rotiferi bdelloidei Ecco, un filum, quindi poi a classe, eccetera, eccetera In cui c'è riproduzione sessuata Cioè accadono le cose che la professoressa Tonelli vi ha spiegato Ma non ci sono maschi Non esistono maschi Ci sono solo e soltanto femmine Però, e anche qui vi pregherei prendete nota Cosa succede? Succede che una femmina è in grado tranquillamente da sola di ricombinare geneticamente Le femmine qui in sala ricombinano geneticamente Nelle loro cellule accade questo taglia e cuci di ricombinare le sequenze E di mescolare i caratteri E poi producono l'ovetto che ogni tanto va incontro Si chiama partenogenesi Attenzione, nei libri di testo spesso c'è scritto che la partenogenesi è una riproduzione assessuata Fatevi restituire almeno la metà del costo del libro Vabbè, ma gli studenti usciranno da qui che andranno da tutti gli editori dei manuali scolastici Il dovere della Fondazione Umberto Veronesi è diffondere la chiarezza La partenogenesi è una riproduzione sessuata uniparentale C'è solo un genitore Qui incominciamo ad aprire il vaso per le riflessioni Cioè ci può essere una riproduzione sessuata con un solo genitore Fantastico Sono femmine, si chiama partenogenesi D'accordo? Come accade che si ricombini La professoressa Tonelli è in agguato La diploidia in queste cellule Queste cellule dopo che si sono divise per meiosi Riassorbono un globulo polare Al di là adesso degli aspetti Qua era più complicato Ok, fine C'è questa modalità Quali altre modalità? Ma ce ne sono tantissime Perché è variabilissimo come può accadere Il caso più semplice Non so, ieri sera Mi è stato offerto di mangiare un'orata Quando mangiate un'orata State mangiando un'ermafrodita Pensate il professore cosa pensa mentre mangia un'orata Vabbè, è importante È difficile la vita del professor Redi No, siamo privilegiati Se le gonadi non finiscono in due individui E in questo caso parliamo di due case di oicismo Ok, ma finiscono in un individuo Monoicismo, una casa C'è un'ermafrodita Questa ermafrodita fa sesso tranquillamente Lo può fare in una variabilità incredibile Rarissimo che se la cavi da solo L'ermafroditismo sufficiente Per le ragioni che ha spiegato la professoressa Tonelli Perché non ha sicuro una grande variabilità Ma inferiore, eccetera, eccetera È raro Può accadere ad esempio in questo nematode Che ha nominato Cenorabditis elegans Fantastico Che è in grado di farne di tutti i colori Però normalmente Li incontrate gli ermafroditi Al di là al ristorante Quando andate in giro e trovate due lombrichi Il lombrico è un'ermafrodita Poi li vedete uniti a due Perché è un'ermafrodita insufficiente E quindi una volta fa il maschietto E una volta fa la femminuccia Altro aspetto da ricordarci Oltre alla unigenitorialità Cioè lo stesso individuo Può comportarsi da maschio o da femmina Ci sono poi Ho bisogno ancora un minuto Ho bisogno ancora un minuto Ci sono poi situazioni bidirezionali Quando vedete quei bei pesciolini Il pesce pagliaccio Tutti questi pesci delle barriere coralline E questi sono in grado addirittura Di avere nel tempo Una bidirezionalità Cioè in genere Prevale il fatto che all'inizio Si è maschietti Proteroandria E poi femmine A volte accade proteroginia E poi maschietti C'è un po' di tutto Però la cosa importante da ricordare È che addirittura Al di là di che Monoicismo, dioicismo, erbafrodita, partenogenesi Sesso è ricombinazione genetica E quindi tipi di accoppiamento Mating types Ci sono gruppi Dove i sessi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ci sono gruppi In cui i sessi Mating types della ricombinazione genetica Sono 13 Ma ci sta seguendo qualcuno Dai palazzi alti? No, meglio non dirglielo Che potrebbero preoccuparsi molto Di quello che viene detto qui Cioè C'è una variabilità incredibile Di più Il sesso e finisco Determinato geneticamente Va incontro A una serie di modificazioni Anche nel caso così Che si pensa Bianco-nero Il caso dell'uomo A livello embrionale E a livello fetale Può essere distorto Il piano di formazione Di base Che è femminile È femmina Solo se si accendono dei geni Il testis determining factor Il cercine genitale Che dà origine alle grandi labbra Si chiude Forma lo scroto Eccetera 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 Ma poi anche in ambito Post embrionale Dopo che sei nato Perché dipende molto Dall'ambiente Nel senso più ampio La diossina Che è un estrogeno mimetico Se mia madre ne mangia Una tonnellata E io sono maschio In utero C'è qualche problemino Ok? Quando sono nato L'ambiente in questo senso Ma l'ambiente che mi riceve In che termini Può allontanarmi Dal piano di formazione Quindi ci deve essere Chiaro In testa Le modalità Sono tantissime Uscire dallo schema Antropocentrico E è davvero in mente Molto chiaro Che c'è una variabilità Incredibile Cioè non derivare Da una supposta Qui c'è il filosofo Idea di naturalità Una norma Avrei bisogno ancora Di un paio d'ore No no ma io poi la reinterpello Non si preoccupi Anche perché qui abbiamo Tanti segni Da matita blu da fare Quindi gli studenti Hanno già preso appunti E sono pronti a tornare Sulle barricate Con gli editori dei manuali Esatto Ma io volevo capire Un po' di più Questa cosa Dei maschi e delle femmine Con il professor Pievani Perché lei in un suo libro Ha parlato di Maschio inutile Cosa vuol dire L'inutilità del maschio Ce lo spiega Io sono molto curiosa Rispetto a questo concetto È una domanda interessata Naturalmente Perché Allora È un gioco Per dire Quello che è già stato detto Molto bene Anche Ratonelli E Carlo Alberto Redi Ma aggiungo soltanto Qualche aspetto in più Più evoluzionissimo Quindi avete sentito Stanzialmente Il sesso è una strategia Potentissima Di generazione Di diversità E per questo È quasi sicuramente Molto antica Perché la diversità È il combustibile Fondamentale Di ogni cambiamento evolutivo Quindi Insieme con la mutazione E altri meccanismi Il sesso genera questo In più Ha un vantaggio E che è immediato Nel senso che Il sesso Ricombinando Con l'accoppiamento stesso Di un maschio Di una femmina Fa sì che Pensateci I figli che nascono Siano tutti diversi Tra di loro E anche diversi Dai genitori Quindi è un generatore Immediato Di diversità Già alla generazione successiva Perché questo è un dettaglio Importante Prima si citava La regina rossa Perché nell'evoluzione Tu hai tanti nemici Ci sono i parassiti Ci sono i batteri I vidri I agenti patogeni Allora se ti attacca Un agente patogeno E tu fai dei figli Che sono tutti diversi Subito Cosa succederà Che qualcuno Si ammalerà E verrà attaccato Però hai buone probabilità Che qualcuno invece In virtù di questa diversità Sia resistente E quindi posso sopravvivere Quindi il sesso È una difesa È una sorta di vaccino naturale Potremmo dire Inventato agli albori Dell'evoluzione Tra l'altro Pensateci bene L'avete anche visto Durante la pandemia Vi ricordate Quando si parlava Di certe famiglie In cui qualcuno Veniva attaccato Con sintomi molto gravi E uno non capiva Invece il fratello La sorella No È certo Perché essendo tutti diversi Geneticamente Quella era una difesa Naturale Anche dall'attacco Di quel Di quell'agente patogeno Ora perché Il maschio è inutile Perché come diceva prima Chiara Tonelli Questo ha delle implicazioni Dei costi Appunto Fare dei maschi Che hanno ovviamente La funzione Che è questa Di contribuire Però per esempio I batteri Si scambiano direttamente I geni Avete sentito Quante altre strategie Ci sono Per ricombinare Per generare diversità Però insomma Il maschio è inutile Perché appunto Il piano di base Con cui nasce Ognuno di noi È femmina Molte femmine Possono fare Tutto da sole Appunto Con la partenogenesi E poi aggiungerei Il fatto Un altro fatto Molto curioso Dell'evoluzione Ma interessante Questa Differenza Dei sessi Maschi Di femmine All'inizio Ha generato Una asimmetria Cioè Quasi sempre Nell'evoluzione Come avete sentito Le femmine Producono Poche cellule Sessuali Piene di nutrimento E molto preziose Invece Noi maschetti Come sapete bene Ne produciamo Tantissime A milioni E le buttiamo via Continuamente Gli spermini Questa cosa Ha generato Nel corso Dell'evoluzione La situazione Perché Darwin Capì molto bene Già nell'origine Delle specie Per cui Sono quasi sempre Le femmine Che scelgono Il maschio E il maschio Deve farsi scegliere Dalle femmine E come si fa a scegliere Si fa a scegliere O combattendo Direttamente Per la riproduzione Oppure Attraverso Gli ornamenti Le danze Colori sgargianti No E questa si chiama Selezione sessuale Che è importantissima Negli uccelli Nei peci Ed è interessante Perché qua si compete Non direttamente Per sopravvivere La fitness In questo caso È accedere direttamente Alle femmine La riproduzione Allora vedi Che le femmine Possono fare tutto da sole Il piano di base È femminile Le femmine Sono quelle che scelgono Con che riprodursi Diciamo che il maschio Non è inutile Ma noi diciamo Nell'evoluzione Il maschio è Il sesso secondario Il sesso Ancillare E un ultimo esempio Che vi faccio Che è molto interessante Avete pensato Perché è uscito Un lavoro Qualche settimana Molto bello La monogamia Per esempio Nell'evoluzione È piuttosto rara E quando c'è È imperfetta Abbiamo scoperto Perché La monogamia È un comportamento Sessuato Perché in questo modo Presidi La prole Invece sono andati A controllare Geneticamente E si è scoperto Che quasi il 30% Delle uova Era stato fecondato Da un altro maschio Quindi anche la cigna Come dire Che pensavamo Fosse un modello Di monogamia Invece non lo è Perché Il messaggio È sempre lo stesso Perché una monogamia Troppo stretta Riduce la diversità E quindi invece Una promiscuità È sempre un motivo Di aumento Di diversità Quindi Insomma Il messaggio fondamentale È questo Il valore fondamentale Protettivo E generativo Della diversità Nell'evoluzione E come diceva giustamente Carlo Alberto Lo sottolineo Anch'io tante volte Avete visto Ermafroditismo Di tutti i tipi Femmine che fanno da sole Assessuate Assessuate I batteri Che fanno ancora In un altro modo Cioè la natura È veramente Un arcobaleno Di strategie diverse E dimentichiamoci L'idea che L'aggettivo naturale Voglia dire Giusto O voglia dire Normale Quindi Il mio consiglio Ai ragazzi È quando sentite qualcuno Che parla di Un comportamento Sessuale Naturale Rispetto a uno Contro natura Una famiglia Naturale Rispetto a una Contro natura Diffidate immediatamente Gli mandiamo subito Carlo Alberto Redi Che poi gli fa Un pronostico Di due ore Sulle diverse Forme di riproduzione Ma vorrei rivolgere Una domanda A entrambi Professor Redi E professor Pievani Appunto Per capire Se può esistere Un futuro diverso Per la riproduzione Sessuata Nell'uomo Visto che Tu ci stai lavorando Ci stai lavorando Professore ci dica Ho poco tempo Immagino E purtroppo Quella è la condanna Della giornata La risposta secca È sì Però devo Un minimo Ci sono degli aspetti Interessanti Perché Diciamo L'avanzamento Delle conoscenze In generale Delle scienze Della vita Perché Alla fine della fiera Viviamo nel millennio Delle scienze Della vita È tutto bio Qui per fare ammenda Bioeconomia Bioetica C'è là con La propone Siccome prima ho detto Della banca È ingarbugliata Insomma è tutto bio Ok È importante Sottolineare questo Perché ci dà Delle opportunità Questo avanzamento Di conoscenze Ci offre Dei sistemi Sui quali Dobbiamo riflettere Ma con un atteggiamento Laico Cioè Quello che sta facendo Proprio La vocazione istituzionale Della fondazione Veronesi Noi diamo Le conoscenze Al fine Voghera è vicino A Pavia Che come diceva Arbasino Anche la massaia Di Voghera Ha modo In autonomia Di sviluppare Il proprio pensiero Allora Quello che ha sentito Già l'aiuta Cosa può essere In futuro L'accrescimento Di questa variabilità Incredibile Perché Ad esempio La biologia Delle cellule staminali Ok Oggi siamo in grado Da delle cellule Della pelle Di riprogrammarle Geneticamente E di portarle A uno stato Simile Embrionale Ricorderete I Nobel Che ci sono stati Shinya Yamanaka John Gurdon Eccetera Ma quando ho Una cellula Simile Embrionale In provetta E le mie conoscenze Sono tali ormai Che posso fare Andate sul sito Della fondazione E guardate i documenti Posso fare I burger Evitare Gli allevamenti Intensivi Posso fare L'editing Del genoma E correggere Delle malattie Posso fare Un sacco di cose Posso fare Cellule germinali Cioè Dalle mie Io sono Chiaramente In andropausa Ok No professore Ci dà una notizia No Sì Ebbè ma si vede E' inutile Cioè L'età Eccetera Cioè Però potrò Prendere Un fibroblasto E posso Trasformarlo In spermatozoi Se non ne ho più Posso trasformarlo In cellule uovo E a questo punto Io posso fare Cellule uovo Da staminali Di un XY Di un maschio O posso fare Spermatozoi Da cellule In origine XX Di una femmina Capite che C'è un'apertura Di possibilità Incredibili Per curare Malattie Pensate a chi Siamo a livello Sperimentale È chiaro Quindi non è che domani Potete andare dal medico Di base E dire Mi prescriva Come ha detto Redi Però ci siamo L'avanzamento È velocissimo E quindi è chiaro Che in teoria Già oggi Oltre a poter fare Queste cellule E poterle fornire A rispondere A esigenze Terapeutiche Non ancora Capaci Di rispondere Al bisogno Di un individuo Posso fare Riproduzione Veramente Unigenitoriale Cioè io potrei Farmi le mie Celluline Uovo Secondarle Con i miei Spermatozoi Dove è lecito Pagare una signora Per un utero In affitto Ed avere Dei figli Da un unico Genitore Qui stiamo Ma stava Ipotizzando Una cosa È chiaro Che è lecito Laddove Laddove È possibile Se poi vuole intervenire Noi abbiamo le domande Da parte del pubblico Però per rispetto Lascierei parlare Professor Redi Ma ha tutte le ragioni Ad esempio Qui è reato Ma in alcuni luoghi Non è reato Per cui diciamo La via È fattibile Su questo Non c'è Difficoltà Però Qui il discorso È un altro È possibile Quindi Una unigenitorialità E questo è un problema Perché siamo ancora Impantanati A discutere Se è fattibile Omogenitorialità O meno Per cui Il messaggio Finale Importante A mio giudizio È quello di considerare Soprattutto Penso Per chi va In direzioni Così Attenti al problema Ragazzi La genitorialità È un progetto Affettivo Non è un esercizio Non è un esercizio Di zootecnia Non è un esercizio Di riproduzione Dove deve esserci Un maschietto Una femminuccia Questo Quell'altro Ci devono essere Dei genitori In grado In grado di rendere Autonomo Un nuovo individuo Permettendogli Di crescere Questo deve essere Chiaro In un mondo Di affetto In un mondo Che lo accoglie In un mondo Che gli permette Di essere Inclusivo E di essere Chiunque Egli desideri Essere Questo deve essere Importante Le nuove conoscenze Quello che ci permettono Di fare Di sviluppare Nuovi sistemi Di sesso Riproduttivo Sono questi E chiamano in causa Il filosofo Il giurista Tutti Quelli Anche quel signore Giustamente Per sviluppare Delle norme Che siano valide Per tutti Con un approccio Laico Non ideologico Questo è il punto Cioè Il decisore Il decisore Politico Personalmente E va rispettato E legittimamente Può pensare Quello che vuole Ma non può tradurre Grazie Alla sua funzione In una norma Che deve essere Valida per tutti Questo è un errore Non è più democrazia È chiaro? Professor Pievani La domanda è anche a lei Quale futuro Ci può essere Per la riproduzione Sessuata dell'uomo Adesso Carlo Alberto Redi Vi ha spiegato La parte Diciamo Tecnica Le possibilità In fondazione Veronesi Noi abbiamo Un comitato etico Attivissimo E ci troviamo Costantemente Appunto Nel quale ci sono Competenze diverse Filosofiche Scientifiche Ci confrontiamo Ci confrontiamo Su quelle che Viene chiamata La bioetica Di frontiera Anche questo È importante Anche per le scuole I temi bioetici Alcuni sono quelli Classici Di cui in Italia Si discute sempre Inizio vita Fine vita Benissimo Ma ci sono tantissime Altre questioni Interessantissime Aperte Dalle nuove Frontiere Della ricerca Ed è quello Che cerchiamo Di fare Proprio In fondazione Veronesi Nel quittato etico E ogni volta È un caso diverso Cerchiamo di applicare Dei principi Ed è molto difficile Farlo appunto In modo laico E pluralista Se dov'è In questo caso Io applicherei Un principio Che è stato suggerito 70 anni fa Da Heinz von Föster Che è stato Il padre Della cibernetica Una straordinaria Linea di studio Che poi ha portato Ai computer di oggi E lui diceva Sempre una cosa Che vale anche Per le biotecnologie Lui diceva Se una nuova tecnologia Aumenta il numero Delle possibilità Di scelta Probabilmente È una buona tecnologia Se una nuova tecnologia Riduce le possibilità Di scelta Difidate Non è una buona tecnologia Se ti riduce La libertà Quindi il concetto Di possibilità È importante Le nuove tecnologie Rendono possibili Nuove scelte Se queste scelte Fanno sì Che le donne Per esempio Abbiano più possibilità E più libertà Questo per me È un motivo Per essere positivo Nei confronti Di quella tecnologia Come diceva sempre Umberto Veronesi La conoscenza Di per sé È sempre Una cosa buona Lui diceva sempre Vi ricordate Lui diceva La curiosità umana Andrebbe riconosciuto Come un diritto Umano fondamentale Quindi Produrre nuove conoscenze Che danno nuove possibilità E nuove libertà E ci Tra l'altro Emancipano Da sofferenze E dolore Perché poi Questa è la missione Della scienza Che produce benessere Perché la natura Non è buona Anche perché ci porta Un sacco di dolore E sofferenza Quindi Questo è L'aspetto laico Bello Positivo Di questo Ovviamente Ci vuole tanta responsabilità E questo è il senso Dell'etica Però attenzione Responsabilità Anche in Italia Spesso Non vuol dire Trovare le colpe Di qualcosa Essere responsabili Tecnicamente Vuol dire Rispondere Degli effetti Delle tue azioni No Quante volte Durante la pandemia Abbiamo sentito parlare Di libertà A caso Per me Da un punto di vista Filosofico C'è una libertà In cui io faccio Quello che c'ho voglia Non mi metto la mascherina Non mi vaccino No Quella non è libertà Quella è una libertà tua Che va a scapito Della libertà degli altri Perché tu vai a danneggiare Gli altri Quindi mandi in quarantena Gli altri Quella non è libertà È una libertà Senza responsabilità Questo è il principio Di base Dell'etica Per cui è chiaro Che nuove possibilità Implicano Che dobbiamo metterci lì Discutere Decidere che cosa È giusto fare E aggiungo Un ultimo aspetto etico Che per Fondazione Vranese È molto importante Da sempre Che è l'aspetto Della giustizia E dell'uguaglianza Cioè Una nuova tecnologia Se decidiamo Che è importante Che porta a benessere Deve essere per tutti Non deve essere qualcosa Per un'elite Che se la può permettere Deve esserci un accesso Alle tecnologie Questa è la battaglia Che facciamo da tanto tempo Con Fondazione Ecco Professoressa Tonelli Redi voleva aggiungere Una cosa E poi vengo subito Da lei C'è questo Terrore Quando si dice Le nuove tecniche Oddio le tecniche Cosa succederà Come giustamente E quindi è un qualcosa Costruito dall'uomo L'uomo mette in campo Questa tecnica Questo recinto Nel deserto Per difendersi Di notte Dal vento Per tenere Gli animali Protetti Quindi il paradiso Quindi il paradiso È una tecnica Qui ci saranno Qui ci saranno ben Dei gemelli Se poi Se poi Li faremo Con la tecnica Non lo so Ma bisogna Parlarne Bisogna Discuterne Oggi Certo no La salute della donna Chi è che dà le ovette Le diseredate Il pianeta È vietato Anche in Italia Dieci anni Di galera Interdizione perpetua Dei pubblici uffici Ecco Professoressa Tonelli Prima di far salire Uno studente Per l'ultimissima domanda Di questo panel Vorrei chiedere a lei Qual è il futuro Che vede Negli studi Del sesso E come possono Poi contribuire Alla scienza In generale Gli studi Sono estremamente Importanti Perché Prima di tutto Ci fanno capire Come avviene La diversità Del metabolismo Tra maschi e femmine E questo È estremamente Importante In qualcosa Che facciamo Tutti i giorni Cioè Prendere una medicina Perché Purtroppo La maggior parte Dei farmaci Sono stati testati Sugli uomini E non sulle donne E non sulle donne E questo Avviene Perché è molto più semplice Se uno deve fare Un trial clinico Prende una serie Di uomini Senza preoccuparsi Del fatto Che le donne Invece hanno Il ciclo mestruale Che quindi C'è Uno sbalzo Ormonale E quindi Questo deve essere Tenuto in conto Quando si utilizzano Dei farmaci Allora Cosa vuol dire Che un farmaco Stato su Su un uomo Dà Delle difficoltà Quando viene Applicato a una donna Che ha Un metabolismo Soprattutto ormonale Completamente diverso E questo ci porta A quello che sarà In futuro La medicina Personalizzata Per cui Non solo Il genere Ma poi Anche Tutta una serie Di altri parametri Genetici E così via Dovranno essere Presi in considerazione Non si può pensare Di dare Lo stesso farmaco A un uomo Che pesa 120 chili E una donna Di 40 chili Per dire Con Metabolismi Come vi dicevo Completamente diversi Poi Volevo aggiungere Una cosa A quello che diceva Carlo Alberto L'altro fatto Che in Italia Si utilizza È il principio Di precauzione Col principio Di precauzione Si blocca tutto Perché uno dice Ah non so Quali rischi Andrò incontro E quindi blocco Qualsiasi cosa Ecco Il principio Di precauzione Così come viene Adottato in Italia Dovrebbe sparire Perché questo Blocca Qualsiasi innovazione Blocca anche I progressi Della ricerca scientifica Certo 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 Speriamo Adesso c'è Una nuova tecnica Che negli ultimi anni Ha preso un po' Il sopravvento Per creare mutazioni Perché come avete capito Le mutazioni Sono alla base Della variabilità E sono alla base Della Dell'evoluzione Mutazione E selezione Sono quelli Che hanno permesso A noi Di diventare Partendo da un batterio Di diventare Un organismo Complesso Come siamo noi Se non ci fossero state Mutazioni Non ci saremo ancora Un batterio Un virus Su quello che Allora E questa tecnica È quella del gene editing Cioè È una tecnica Dove Si possono produrre Delle mutazioni In geni Che noi abbiamo Identificato E invece Di cercare Attraverso Migliaia e migliaia Di individui La mutazione Che esiste Diciamo In natura Possiamo Copiarla E indurla Attraverso Un sistema Molto semplice Questo ci può permettere Di poter Dalle piante Sviluppare Piante Che siano Più adatte Ad esempio Al climate change Per quanto riguarda Animali E uomo Riuscire Ad avere Degli organismi Che siano Più resistenti A malattie E così via Quindi C'è tutto Una Una possibilità Di poter Migliorare Le situazioni Che abbiamo Dopo questo panel Sentirete Un panel Su una medicina Di genere Che è proprio L'applicazione Più Diretta Di quello Che arriva Dallo studio Dei sessi E quindi Direi che È Un'applicazione Estremamente E approfondiremo Anche quello Che ci ha anticipato E cioè che i farmaci Vengono testati Soprattutto sugli uomini E non sulle donne Questo provoca Tantissimi problemi E quindi Che ci ha